Inter Ragazzi, siamo nel cuore di Manhattan e io sono venuto a salutare tanti amici interisti qui negli Stati Uniti Andiamo dentro e ve li faccio conoscere Ed eccoci qui, dove ci troviamo? Lo chiedo a Fabio perché la location l'ha scelta lui Dove ci troviamo? Così facciamo anche una promozione Oggi siamo nel cuore di Little Italy, di Palos, Manhattan, quindi benvenuto Gianluca Grazie ragazzi, una festa incredibile Mi fa molto piacere che tu sia qui con noi Sì, direi che alla fine del video mi è venuto in mente adesso faccio l'entrata che ho avuto festeggiato da tutti questi ragazzi Che è stata appunto registrata precedentemente No, ringraziamo quindi i di Palos per l'ospitalità Un applauso ai di Palos Voi sentite degli applausi, siamo tantissimi Allora qui ho eccellenze italiane che si fanno onore negli Stati Uniti Vedete la maglietta, c'è un'unione di Stati Americani, di Inter Club C'è il New Jersey, c'è lo Stato di New York, quindi c'è l'Inter Club New Jersey Poi scusate che non vorrei sbagliarmi perché qui mi hanno anche bevuto del buon vinello Allora c'è l'Inter Club Manhattan, c'è il neonato, il nascente Inter Club Philadelphia Grazie Grazie, no ma adesso li conosciamo un attimo E poi è capitato uno dell'Arizona, JC JC Ciao ciao Perché sei qua? Perché sono fan dell'Inter Club Ah, perché è un fan e quindi tra poco anche l'Arizona, secondo me, avrà il suo Inter Club Grazie JC di essere qui E allora presentiamo un attimo Adesso parto dai più vicini Beh, insomma, posso partire Aldo Tripicchio è un'autentica autorità Ha fatto delle cose nel calcio Al seguito dell'Inter Lui ha lavorato con Bolinbrock Ha lavorato con Mancini Hai lavorato con tutti, insomma Lui è uno dei rappresentanti No, a parte scherzi Quando l'Inter viene qui in America Lui Inter Club New Jersey, dico bene Cioè fa da, come si dice, attaché Team liaison Team liaison Se non avete capito, non è importante Tanto voi non farete mai team liaison Vabbè, comunque è uno, insomma, che conta qua Allora, poi c'è Enzo, Guarcello, grande ristoratore Salve a tutti, buonasera Siamo là Oh, siamo là Siamo là, siamo là Ciao Che è uno che sento abitualmente Insomma, questo è l'Inter Club New Jersey Ed è bellissimo che l'Inter Club New Jersey Ecco, hanno preso, hanno requisito l'amico Oscar Sì, da Embler, vicino a Philadelphia Vicino a Philadelphia Ringrazio per questa bella serata Assolutamente E niente, adesso faremo un club a Philadelphia Adesso lo facciamo Stiamo, abbiamo iniziato un mesetto, due mesi Abbiamo iniziato e stiamo andando avanti Con l'aiuto pure di Fabio Perché ci ha dato idee, no? E lo so E i giovani, i miei nipoti Loro hanno iniziato a fare questo club, l'Inter Club Ed è bellissimo Quindi anche Philadelphia, se verrete qui, avrà un Inter Club Adesso andiamo da Fabio Il mio amico Fabio Cognome un po' bianconero Ma io lo prendo in giro perché è Reato, si chiama Che secondo me è un cognome un po' più in bianco No ragazzi, lui è social manager Lui è uno Che anima questo neonato Inter Club Manatta, anche assorbito Poi l'Inter Club Moratti, no? Che c'era prima Insomma, vi siete messi un po' tutti insieme finalmente Senti, quali sono i progetti? Voi, perché adesso in Italia mi chiederanno Ma loro come fanno a seguire l'Inter? Spiega brevemente TV, Paramount Ci troviamo tutti insieme per vedere le partite Prima che nascesse il club Eravamo tutti ognuno a casa propria Invece adesso siamo riusciti a creare questa bella cosa Quindi io personalmente non vedo l'ora che arrivi il weekend Per vedere le partite tutti insieme Adesso Siamo diventati tutti amici Insomma, bellissimo Bellissimo Qui pagano, non c'è il decoder, quello pirata Cioè c'è la Paramount Si paga l'abbonamento Giusto? No, e dai Negli Stati Uniti non puoi fare tanto il furbetto Poi c'è qui Sergio Buonasera a tutti Sicuramente Forza Inter Anche a Manhattan Abbiamo dei membri fantastici Abbiamo creato un club veloce Perché ci hanno supportato subito tutti Siamo uniti dalla grande passione Ci siamo Anche a Manhattan Sapete dove andare Trovateci Quindi se venite a Manhattan Vedo la moglie Bravo Ma il ragazzo è ingegnere Cioè il ragazzo vorrei dire È ingegnere ragazzi È uno che ha studiato Cioè no? Potrebbe anche dirlo in inglese Questa cosa qua Che è ufficialmente il presidente D'Interclan Manhattan Quindi Sergio è il presidente D'Interclan Manhattan Poi ci sono tantissimi amici Lì Bruno Tanti eccetera Volevo farvi vedere invece Un giovane Prego Adel Puoi venire qui un attimo Vieni qui Yes Come 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 here Come here Abbiamo questo Ragazzino della primavera Se ti puoi mettere No dovresti proprio venire dentro Come come Si oscurirà tutto Ecco praticamente un ragazzo È alto Per esempio Shrek in confronto Ve lo ricordate È praticamente un piccolino Insomma misura due metri Il problema Facciamo questo appello all'Inter Lo faccio direttamente Al direttore Antonello A Beppe Marotta Fate una maglia 5XL 5XL Premio Icoate Perché non la trova Quindi dovete fare una maglia Direttore Antonello Che salutiamo È stato qui con noi A fine maggio È stata una persona Veramente fantastica Disponibile Quindi Speriamo di averlo presto Ma comunque Veramente Una persona Fantastica Vi aveva detto Che arrivava Bremer Vi aveva detto Che arrivava Di Bala Che Lukaku Non sarebbe tornato Che Lukaku Non sarebbe tornato Però uno la prese No però ragazzi Mentre in Italia In furia Sono tutti arrabbiati Voglio Non volevo spiegare che qui C'è un entusiasmo Tra tutti voi E dico ragazzi Ragazzi i giocatori Vanno e vengono Oggi siamo tutti Siamo tutti incazzati Per quello che è successo Perché io sono il primo A essere deluso Però non è che si smette Di tifare Inter No 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 Sentite Philadelphia Mai 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 Never Never Prossimo anno Vinceremo Prossimo anno Arriviamo I tropei e tutto Eh insomma ragazzi Io mi fido di Philadelphia Ci dobbiamo fidare per forza Nel momento in cui parlo Credo che non abbiano Facciamo un po' di autoironia Perché noi siamo anche autoironici Nel momento in cui parlo Credo che non abbiano venduto nessuno No Non lo so Abbiamo una maglia Speriamo ben augurante Ragazzi Un messaggio Qua sotto Qua sopra No vorrei dire C'è la maglia di scrignali È un caso È un caso Ecco io chiudo Con tutti gli amici Ragazzi con questo appello Per favore FC Internazionale Li vedete qua Siamo Tanti Decine Decine di entusiasti Io sono venuto a salutare Mi ha fatto un piacere Mi hanno accolto in maniera incredibile Prima di lasciarvi A come mi hanno accolto Perché poi chiudiamo Direttamente con questo Contributo Prima di lasciarvi Con come mi hanno accolto Una preghiera Inter FC Internazionale 1908 Da sempre in serie A Mai stata in B Società di Viale della Liberazione A Milano Lo faccio io In campo Sì Vorrebbe Perché se non trovo più sta maglia Vuol dire che è successo qualcosa Con questo ragazzi Vi saluto Viva gli Stati Uniti Viva il New Jersey Viva New York Viva l'Uni Viva Philadelphia Viva l'Arizona Contributo 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 Come ne? Come ne? Come ne? Come ne? Come ne? Viva Viste!